dopo una settimana di influenza reclusi in casa decidiamo domenica di fare una gita fuori porta andiamo a vedere il famoso gigante di monte rosso era un bel po di tempo che sentivamo parlare appunto di questo gigante e ci eravamo incuriositi e ha una statua alta 14 metri che raffigura nettuno sapevate che è stato protagonista di un libro famoso divenuto appunto famoso in inghilterra negli anni 80 si tratta del tesoro di meschereid credo che si dica così scusate ma sono proprio imbranata con l'inglese si tratta di una serie di enigmi da risolvere per trovare un tesoro la caccia tesoro fu vinta da una signora italiana che udite udite trovò il tesoro proprio nascosto dietro al tallone del gigante